Musica Nel pomeriggio di oggi nell'Aula del Sinodo in Vaticano Papa Francesco ha aperto le giornate della 69esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori che termineranno giovedì 19 vedranno nella mattinata di domani l'intervento del Cardinale Presidente Angelo Bagnasco dopodiché i Vescovi inizieranno a confrontarsi sul tema principale all'ordine del giorno il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente. Figli non più orfani alla Messa in San Pietro nella solennità di Pentecoste Francesco ha messo l'accento sul dono dello Spirito Santo culmine della missione di Gesù che riallaccia la nostra relazione con il Padre. Il Papa ha messo l'accento sui segni della condizione di orfani che si vive ai nostri giorni e ha esortato a lasciarsi guidare dallo Spirito per riconoscere l'altro come fratello in quanti figli dello stesso Padre. Lo Spirito Santo ci insegna l'unica cosa indispensabile e amare come ama Dio, lo ha affermato Papa Francesco alla Regina Celi nella locuzione che ha preceduto la preghiera mariana del tempo di Pasqua. L'appuntamento settimanale si è tenuto in piazza dopo che il Papa aveva celebrato la Messa di Pentecoste in Basilica. Lo Spirito Santo dia forza a tutti i missionari ad gente se sostenga la missione della Chiesa nel mondo intero suscitando ragazzi e ragazze forti che portino ovunque il Vangelo. Sono le parole con cui Papa Francesco ha annunciato al termine del Regina Celi la pubblicazione del suo messaggio per la prossima giornata missionaria mondiale che si celebrerà domenica 23 ottobre e di cui proprio in quest'anno giubilare ricorre il novantesimo anniversario. Il Giubileo della Misericordia sia l'occasione per manifestare verso i fratelli la stessa pietà di Dio Padre che sempre ci consola nelle difficoltà. È stato il messaggio centrale dell'udienza giubilare di sabato dedicata alla pietà, uno dei sette doni dello Spirito Santo che il Signore offre ai Suoi discepoli per renderli docili ad obbedire alle ispirazioni divine. Nell'ambito dell'iniziativa dei Venerdì della Misericordia dell'anno giubilare visita a sorpresa di Papa Francesco venerdì pomeriggio alla comunità Il Chicco di Ciampino alle porte di Roma una realtà legata alla grande famiglia dell'Arca fondata da Jean Vanier nel 1964. La comunità del Chicco ospita oggi 18 persone con grave disabilità mentale con loro il Papa si è intrattenuto per un'ora e mezza circa. Prende lo spunto dal tema scelto dalla 69esima Assemblea Generale della CEI il rinnovamento del clero a partire dalla formazione permanente Papa Francesco che apre i lavori invitando i presenti ad avvicinarsi quasi in punta di piedi a qualcuno dei tanti parroci che si spendono nelle nostre comunità. Lasciamo che il volto di uno di loro, sono le parole del Papa, passi davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità che cosa ne rende saporita la vita, per chi e per che cosa impegna il suo servizio, qual è la ragione ultima del suo donarsi. Il prete dei nostri giorni con l'olio della speranza e della consolazione sa farsi prossimo di ognuno, attento a condividerne l'abbandono e la sofferenza. Non ha un'agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro. Così il nostro sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell'istituzione, non è consacrato a un ruolo impegnatizio, né mosso dai criteri dell'efficienza. Il segreto del prete, sono ancora le parole del Santo Padre, che sta in quella roveto ardente che ne marchia a fuoco l'esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a custodirlo, rendendolo estraneo alla mondanità spirituale che corrompe, come pure, a ogni compromesso e meschinità. Nella misura in cui il presbitero sa farsi partecipe della Chiesa, ci si può chiedere per chi egli impegna il proprio servizio presbiterale. «Questa comune appartenenza che sgorga dal vatessimo è il respiro che libera da un'autoreferenzialità che isola e imprigiona. Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell'immobilità del mollo», richiamava Don Helder Camara, «prendi il largo, parti». E innanzitutto non perché hai una missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un missionario. E ancora Papa Francesco ha messo l'accento sull'appartenenza alla Chiesa che è il sale della vita del presbitero. Fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno. In questo tempo povero di amicizia sociale, il nostro primo compito è quello di costruire comunità. L'attitudine alla relazione è quindi un criterio decisivo di discernimento vocazionale. Nel camminare insieme di presbiteri diversi per età e sensibilità si spande un profumo di profezia che stupisce e affascina. La comunione è davvero uno dei nomi della misericordia. Infine, ha detto il Papa, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro presbitero. Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un po' a metà con il piede alzato, calcolano, soppesano, non rischiano nulla per paura di perderci. Sono i più infelici. Il nostro presbitero invece, con i suoi limiti, è uno che si gioca fino in fondo. Nelle condizioni concrete in cui la vita e il ministero l'hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia, anche quando nessuno sembra accorgersene, anche quando intuisce che umanamente forse ninguno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza misura. La triplice appartenenza che ci costituisce, ha ricordato il Santo Padre, è l'appartenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di Creta va custodito e promosso e rivolto ai Vescovi li ha esortati ad avvertire fino in fondo questa responsabilità a farsene carico con pazienza e disponibilità di tempo, di mani e di cuore. A Pentecoste celebriamo il culmine della missione di Gesù che attraverso il dono dello Spirito Santo riallaccia la nostra relazione con il Padre rovinata dal peccato. Papa Francesco ha incentrato la sua omelia nella Messa di Pentecoste celebrata in San Pietro sulle parole del Signore riferite nel Vangelo di Giovanni «Non vi lascerò orfani». Il Papa ha rammentato che grazie allo Spirito Santo non siamo più schiavi ma figli adottivi. Si riattiva in noi la paternità di Dio. In fondo, ha osservato il Papa, tutta l'opera della salvezza è un'opera di rigenerazione nella quale la paternità di Dio, mediante il dono del Figlio e dello Spirito, ci libera dall'orfanezza in cui siamo caduti. Anche nel nostro tempo, ha constatato poi con rammarico, si riscontrano diversi segni di questa nostra condizione di orfani. Quella solitudine interiore che sentiamo anche in mezzo alla folla e che a volte può diventare tristezza esistenziale. Quella presunta autonomia da Dio che si accompagna ad una certa nostalgia della sua vicinanza. quel diffusso analfabetismo spirituale per cui ci ritroviamo incapace di pregare. Quella difficoltà a sentire vera e reale la vita eterna come pienezza di comunione che germoglia e chiesboccia oltre la morte. quella fatica a riconoscere l'altro come fratello in quanto figlio dello stesso padre e altri segni simili. A tutto questo, e la riflessione di Papa Francesco, si oppone la condizione di figli che è la nostra vocazione originaria e ciò per cui siamo fatti il nostro più profondo DNA che però è stato rovinato e per essere ripristinato ha richiesto il sacrificio del figlio unigenito. Dall'immenso dono di amore che è la morte di Gesù sulla croce è scaturita per tutta l'umanità come un'immensa cascata di grazia l'effusione dello Spirito Santo chi si immerce con fede in questo mistero di rigenerazione rinasce alla pienezza della vita filiale. Non vi lascerò orfani, ripete anche oggi Gesù. Francesco ha rivolto quindi il suo pensiero alla presenza materna di Maria nel Cenacolo. Maria è memoria vivente del figlio e invocazione vivente dello Spirito Santo è la madre della Chiesa. Alla sua intercessione è stata la preghiera del Papa affidiamo in modo particolare tutti i cristiani, le famiglie e le comunità che in questo momento hanno più bisogno della forza dello Spirito Santo. Ancora, ha ribadito, consolidando la nostra relazione di appartenenza al Signore Gesù, lo Spirito ci fa entrare in una nuova dinamica di fraternità. Mediante il fratello universale che è Gesù possiamo rilassionarci agli altri in modo nuovo, non più come orfani, ma come figli dello stesso Padre buono e misericordioso. E questo cambia tutto. Possiamo guardarci come fratelli, ha concluso il Papa, e le nostre differenze non fanno che moltiplicare la gioia e la meraviglia di appartenere a questa unica paternità e fraternità. Non lo si vede e anche per tanti che si professano credenti è una presenza indefinibile e impalpabile. Ma essere cristiani è un'opera concreta dello Spirito Santo. È lui che fissa nel cuore ciò che Cristo ha insegnato perché le parole del Vangelo resistano al logorio del tempo e della fragile memoria umana. Non a caso, ha sottolineato Papa Francesco nel suo pensiero all'ultimo Regina Cieli dell'anno nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo è stato il primo e principale dono che Gesù ci ha ottenuto con la sua risurrezione e ascensione al cielo. Francesco ha concentrato l'attenzione su una frase del Vangelo di Giovanni letto in questa solennità quando Gesù dice ai Suoi discepoli se mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Parole ha commentato il Papa che ci ricordano anzitutto che l'amore per una persona e anche per il Signore si dimostra non con le parole ma con i fatti. Osservare i comandamenti va inteso in senso esistenziale in modo che tutta la vita ne sia coinvolta. Infatti essere cristiani non significa principalmente appartenere a una certa cultura o aderire a una certa dottrina ma piuttosto legare la propria vita in ogni suo aspetto alla persona di Gesù e attraverso di Lui al Padre. Lo Spirito infatti ci insegna ogni cosa ossia l'unica cosa indispensabile amare come ama Dio. C'è poi l'altra particolare definizione che Gesù usa con gli Apostoli riferendosi allo Spirito Santo come a un altro paraclito. Altro perché ha affermato Francesco il primo è Cristo stesso divenuto uomo morto e risorto per l'umanità. Lo Spirito Santo interviene subito dopo proprio con funzioni di assistenza intercessione e difesa consolazione mediazione con funzioni ha indicato il Papa di insegnamento e di memoria. Lo Spirito Santo non porta un insegnamento diverso ma rende vivo rende operante l'insegnamento di Gesù perché il tempo che passa non lo cancelli o non lo affievolisca. lo Spirito Santo inesta questo insegnamento dentro al nostro cuore ci aiuta a interiorizzarlo facendo diventare parte di noi carne della nostra carne. Un cuore con questa luce dentro ha concluso Francesco saprà testimoniare Cristo con franchezza evangelica. La Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell'amore del Signore scrive Papa Francesco nel messaggio per la novantesima giornata missionaria mondiale che si celebrerà il prossimo 23 ottobre essa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio cuore pulsante del Vangelo e di proclamarla in ogni angolo della terra. Torna sull'immagine di una Chiesa che esce attraverso i suoi discepoli missionari ognuno dei quali mette a disposizione i propri talenti il Santo Padre che spiega ancora una volta che cosa sia la misericordia di Dio procura intima gioia al cuore del Padre quando incontra ogni creatura umana riflette la capacità di immedesimarsi con i piccoli gli scartati gli oppressi il Signore si coinvolge con tenerezza nella realtà umana proprio come farebbero un padre e una madre nella vita dei loro figli e proprio questo segno eloquente dell'amore materno di Dio secondo il Pontefice è una considerevole crescente presenza femminile nel mondo missionario sono molte oggi ricorda il Papa le donne laiche e consacrate ma anche le famiglie che realizzano la propria vocazione missionaria annunciando il Vangelo o attraverso il servizio caritativo e sono proprie le donne e le famiglie che comprendono più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito in questo modo nel prendersi cura della vita nel porre attenzione alle persone più che alle strutture le famiglie sanno costruire armonia relazioni pace solidarietà dialogo collaborazione e fraternità nei rapporti interpersonali nella vita sociale e ancora una volta nella cura dei poveri fare della propria vita un dono gratuito imparando ad amare come il Signore ci ama scrive ancora Francesco ci permette di diventare misericordiosi come il nostro Padre Celeste ed è un obiettivo che si può raggiungere accogliendo e seguendo gli insegnamenti di Gesù il verbo incarnato in cui la misericordia trova la sua manifestazione più alta egli rivela il volto del Padre ricco di misericordia infine il Pontefice sottolinea che ogni popolo e cultura ha il diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio per tutti il Vangelo del perdono e della misericordia infatti i cristiani lo sanno porta gioia e riconciliazione giustizia e pace attraverso l'intercessione della Vergine Maria siamo invitati a scuotere l'indifferenza che talvolta ci impedisce di vedere le necessità dei nostri fratelli liberarci dalla schiavitù dei beni materiali è stato questo il cuore dell'udienza giubilare dedicata alla pietà uno dei sette doni dello Spirito Santo che rende docili ad obbedire alle ispirazioni divine tra i tanti aspetti della misericordia ha spiegato Papa Francesco venne uno che consiste nel provare pietà o impietosirsi nei confronti di quanti hanno bisogno di amore nel mondo greco-romano la pietas indicava un atto di sottomissione superiori anzitutto la devozione dovuta agli dèi poi il rispetto dei figli verso i genitori soprattutto anziani oggi invece dobbiamo stare attenti a non identificare la pietà con quel pietismo piuttosto diffuso che è solo un'emozione superficiale e offende la dignità dell'altro allo stesso modo la pietà non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi accade infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti ai cani e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino la vicina no no eh eh d'accordo? tante volte i Vangeli riportano il grido spontaneo rivolto a Gesù da persone malate indemoniate povere o afflitte intuivano che lui c'era qualcosa di straordinario che li poteva aiutare ad uscire dalla condizione di tristezza in cui si trovavano percepivano in lui l'amore di Dio stesso egli le chiamava ad avere fiducia in lui e nella sua parola per Gesù provare pietà equivale a condividere la tristezza di chi incontra ma allo stesso tempo a operare in prima persona per transformarla in gioia anche noi siamo chiamati a coltivare in noi atteggiamenti di pietà davanti a tante situazioni della vita scuotendoci di dosso l'indifferenza che impedisce di riconoscere le esigenze dei fratelli che ci circondano e liberandoci dalla schiavitù del benessere materiale il Papa conclude invitando con un verso della Divina Commedia a volgere lo sguardo alla Vergine Maria che è per noi credenti l'icona della pietà Dante Alighieri lo esprime nella preghiera alla Madonna posta al culmine del paradiso in te misericordia in te pietate in te sadduna quantunque in creatura e di bontate grazie nell'ambito dell'iniziativa dei venerdì della misericordia dell'anno giubilare visita sorpresa di Papa Francesco venerdì pomeriggio alla comunità Il Chico di Ciampino alle porte di Roma una realtà legata alla grande famiglia dell'Arche fondata da Jean Vanier nel 1964 presente in oltre 30 paesi nei 5 continenti insieme all'associazione Fede e Luce si dedica alle persone più deboli ed emarginate della società accolto con gioia e calore dai membri delle due case famiglia chiamate la vigna e l'ulivo che ospitano 18 persone con grave disabilità mentale il pontefice ha condiviso la merenda con disabili e volontari ha scherzato e ascoltato le parole degli ospiti di questa comunità la prima realizzata in Italia fondata nel 1981 Francesco ha ricevuto in dono piccoli oggetti di artigianato che esprimono la creatività e fantasia dei membri del Chico realizzati dai disabili che secondo l'intuizione del fondatore dell'Arca devono svolgere una vita fatta anche di impegno manuale secondo le capacità di ognuno il Papa ha incontrato anche i disabili più gravi dimostrando loro profondo affetto e tenerezza in particolare verso Armando e Fabio i primi ad essere accolti qui un pomeriggio condiviso come tra amici con persone di famiglia una visita con cui il pontefice ha voluto dare un ulteriore segno contro la cultura dello scarto perché non si può essere privati di amore gioia e dignità solo perché portatori di una disabilità mentale emarginati e rinchiusi per questo nella solitudine in forza di preconcetti dopo molti abbracci e dopo aver tenuto strette tante mani nelle sue il Papa ha pregato nella piccola cappella e si è congedato alle 18.30 dopo essersi trattenuto per un'ora e mezzo circa con gli ospiti del Chico prima pagina dell'osservatore romano con la data del 16-17 maggio 2016 pubblicato nella domenica di Pentecoste il messaggio del Papa per la giornata mondiale che si celebra in ottobre missione al femminile e i cristiani sono invitati a riscoprire lo spirito santo per non vivere più nella solitudine strage di agenti nella città di Mukalla non c'è pace per lo Yemen per la festa liturgica dei Santi Cirillo e Metodio incontro con le delegazioni di Bulgari e della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia riunione internazionale a Vienna sfida per la stabilità della Libia gli ebrei chiamati ad aprirsi al dialogo con coraggio in mare aperto grazie a tutti